Gentili telespettatori, buona giornata. Luigi Di Maio lascia TikTok e Facebook, cancellati pagina ufficiale e profilo social. Voi sapete che potete mettere le vostre pagine in stand-by, cancellarle per un certo tempo, quello che voi desiderate, poi potete riattivarle. Intanto così Luigi Di Maio sospende le sue pagine di Facebook e TikTok dove aveva un certo numero anche di seguitori e si prevede, si parla anche di un incarico magari in Campania. Quindi un nuovo incarico per Luigi Di Maio a lanciare il rumors e il sito agendapolitica.it che afferma come per l'ex ministro degli esteri, fatto fuori dal Parlamento alle ultime elezioni politiche, ci potrebbe essere un incarico nella giunta regionale della Campania, alle prese con un rimpasto proprio a seguito della tornata elettorale. Stando alle voci che giungono da ambienti molto vicini al presidente della regione Vincenzo De Luca, i nomi sul tavolo per un rinnovamento sono quelli dell'ex ministro Luigi Di Maio, dell'ex senatrice Sandro Leonardo e dell'ex presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio, l'indiscrezione sull'ex capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale leader di impegno civico. De Luca non ritiene più Italia Viva come un partito che sostiene la sua maggioranza e andrebbe quindi sostituita la casella che occupa Nicola Caputo, assessore all'agricoltura. Una poltrona che potrebbe finire proprio a Di Maio che nel Consiglio regionale ha tre dei suoi di impegno civico. Per Leonardo, moglie di Clemente Mastella, ci sarebbe invece un avvicendamento con Felice Casucci. L'ex senatrice avrebbe l'incarico di assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo. Lo staff di Di Maio però non ha gradito la voce che ha smentito tutto. Smentiamo categoricamente le falsità diffuse da alcuni organi di informazione in merito a volontà, ambizioni o trattative circa l'ingresso del ministro Di Maio nella giunta della regione Campania. Perché lo hanno chiamato ministro Di Maio? Perché attualmente lui è ancora ministro degli esteri. Lui oggi è ancora al ministero degli esteri, alla Farnesina, fino a quando non sarà insediato il nuovo governo. Insomma, naturalmente Luigi Di Maio lotta per rimanere a galla. Ovviamente passare da uno stipendio di parlamentare più ministro, che sono circa 18-19 mila euro netti al mese, a zero totale, capite che è una bella botta, è da 19 mila a zero. Avrai anche messo da parte qualcosa, ma che fai, te lo mangi tutto? Ecco, ovviamente Di Maio è in cerca di qualsiasi incarico. Gli venga proposto per andare avanti, ecco, perché sennò che fa? Dovrà chiedere il reddito di cittadinanza che non gli daranno perché l'ISEE è troppo alto. Potrebbe contattare un navigator che insieme potrebbero navigare verso lì di lontani. Così vi dicevo, Luigi Di Maio cancella momentaneamente, mette in stand-by le sue pagine social dopo la mancata rielizione alla Camera. Ha fatto un ultimo post sulla sconfitta elettorale con impegno civico e le fonti del partito dicono che l'addio potrebbe essere dovuto ai commenti negativi e agli attacchi ricevuti per i flop. Ma i commenti negativi, quando hai pagine con migliaia, migliaia o milioni di seguitori, sono la norma. Ma è, attenzione, gli odiatori, anche sul mio canale, un 30% sono commenti d'odio, di invidia, perché tu sei riuscito, tu stai facendo e loro no, e allora ti odiano, nascosti dietro una tastiera, è il classico leone da tastiera, no? Leone dietro una tastiera, poi faccia a faccia un coniglio. Pertanto consiglierei anche a Luigi Di Maio di non stare lì a leggere i messaggi. Quando hai milioni di seguitori significa che leggere i messaggi è come andare a casa di milioni di persone e ci toffonare e dicere scusa tu cosa ne pesci di me? Non ha senso. Però Luigi Di Maio dice addio per il momento ai social. Ha cancellato o oscurato la propria pagina di Facebook e non c'è traccia del suo profilo nemmeno su TikTok. Sono rimasti invece i suoi account su Twitter e su Instagram. Una scelta che arriva dopo la sconfitta politica che ha visto l'impegno civico, il nuovo partito fondato dai 5 Stelle, non raggiungere il 3%, ma fermarsi allo 0,56%. Immaginatevi tutti quei politici ex 5 Stelle che lo hanno seguito sperando in un futuro migliore si sono ritrovati comunque a spasso. Ma anche nel Movimento 5 Stelle non avrebbero avuto nessuna via d'uscita. Ecco, hanno provato con Di Maio ma non c'è stato niente da fare. Neanche per Di Maio stesso ne è uscito fuori un posto di lavoro in Parlamento. Così, vi dicevo, la pagina di Facebook di Di Maio è sparita, non è possibile raggiungerla effettuando la ricerca. Anche i link ai suoi vecchi post risultano al momento non disponibili. L'ultimo contenuto era pubblicato proprio per il voto per lui deludente del 25 settembre. Con un posto aveva ammesso la sconfitta elettorale che ha visto lui escluso dal Parlamento impegno civico alti sotto della soglia di sbarramento. E' mistero sulle ragioni per cui la pagina non sia più visibile e fonti parlamentari di impegno civico presumono che la decisione di oscurarla sia dovuta ai commenti negativi e agli attacchi ricevuti dopo il flop alle elezioni. Ma si tratta solo di un'ipotesi. Silenzio invece arriva dallo staff del ministro di cui invece risultano ancora attivi Instagram, Twitter e LinkedIn LinkedIn è più o meno per il lavoro quindi Di Maio che qualche offerta di lavoro se dovesse arrivare per lui non sarebbe da scartare. Ecco, Di Maio non sarebbe l'unico di impegno civico ad aver chiuso la pagina. Io l'ho proprio cancellata per due motivi dice il deputato uscente Sergio Battelli il primo è che detesto Facebook che ormai considero roba da boomer e la seconda è che riparto da zero racconta Sergio Battelli deputato uscente. Avrei voluto chiudere la pagina già qualche anno fa. Beh, su quello sinceramente anche io vorrei chiudere le pagine Facebook però sono in contatto con i vecchi compagni di scuola vecchi amici quindi rimane attiva la mia pagina per quello perché sinceramente per come si è comportato Facebook con me sarebbe da chiudere tutto all'istante. grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci e grazie grazie a tutti